La via della seta cinese prende sempre di più la direzione di Caracas. Gigantesca operazione simpatia del venezuelano Nicolás Maduro, che in un'intervista alla rete cinese CCTV ha reiterato la vicinanza del suo paese a Pechino. La Cina è esposta per miliardi di euro verso Caracas, che non avendo valuta con cui pagare offre contratti di sfruttamento vidimati dall'assemblea costituente chavista e non dal Parlamento, qualcosa che l'Organizzazione Mondiale per il Commercio ha già denunciato. Sono contratti nulli a livello internazionale. Eppure Maduro afferma Venezuela è stato fra i primi paesi latinoamericani a unirsi a questa iniziativa, che porterà benefici alle nazioni dell'area. È stato un successo in Asia e ha unito il continente all'Europa. È un'idea vincente che farà prosperare l'economia mondiale. Ma le cose non sono così semplici. Pechino vuole rientrare dei debiti e si pone da tempo domande sul fatto di continuare ad appoggiare o meno il chavismo, ormai in viso a gran parte della popolazione. Da qui sono scaturiti vari abboccamenti anche con l'opposizione di Juan Guaidó, che per ora però appare troppo debole e divisa per essere considerata un valido interlocutore da Pechino.